Prosegue il chiacchiericcio intorno al bacio dato da Luigi Berlusconi, figlio minore del leader di Forza Italia Silvio, ad un amico Prosegue il chiacchiericcio intorno al bacio dato da Luigi Berlusconi, figlio minore del leader di Forza Italia Silvio, ad un amico Una settimana dopo lo scoop lanciato dal settimanale Oggi, il sito da Gospia riporta un retroscena circa la reazione del Cavaliere di fronte alla pubblicazione delle foto da parte della rivista diretta da Umberto Brinda Ma la cosa ha fatto incazzare di brutto papà Silvio Pare che abbia addirittura telefonato a Veronica Lario, l'ex moglie, NDR, con la quale non si parlava da quattro mesi L'identità dell'amico di Berlusconi Jr. è ancora top 6 Il bacio rubato, fugace, ma ben stampato sulle labbra, è stato immortalato sul coltile di Villa Certosa, la lussuosa residenza sarda in cui la famiglia Berlusconi è solita trascorrere il suo buon retiro e si L'escriviti al nostro canale